La tratta di persone sfigura la dignità. Lo sfruttamento e l'associamento limitano la libertà e rendono le persone oggetti da usare e scartare. L'idea principale di questa scultura è di mostrare St. Baquita abitare l'interno e lasciare i soldi moderni liberi. L'idea è letteralmente di lasciare i oppressi liberi, Isaiah 58, 6. Ecco perché l'ubicazione di questa scultura in un luogo così caratteristico riporta i valori che la Santa ha portato nella nostra città dove ha vissuto e dove ancora riposa nel Sacrario a lei dedicato. Santa Baquita è stata rapita da bambina in Sudan è arrivata in Italia a Velezia dove ha scoperto la fede, la vocazione religiosa e da lì è arrivata a Schio dove ha vissuto la sua vita. The purpose of this sculpture also is to show an authentic portrait of modern day human trafficking to actually represent the sex traffic but also the less known and less acknowledged human traffic the domestic worker, the organ traffic, the child bride, the child beggar. The message of today is to shed a light on the people's daily lives and hopefully eradicate human trafficking This monument to Santa Baquita che è bellissimo ecco ci ricorda è un richiamo a tutti un richiamo a tutti a prendersi a cuore le situazioni in cui tante persone uomini e donne sono calpestate nella loro dignità non vedono riconosciuti i loro diritti. The main idea of this sculpture is to celebrate and honour Saint Baquita but also bring awareness to the problem in our society that is often invisible. hoi sa